In se vi da fastidio che si veda l'interno coscia, li mettete, mettete i leggings con questo capo che vi levica davvero dappertutto. Spiegami un po' di profilo che c'è questo effetto trasparente, quindi anche un po' sexy da indossare con una mutandina sotto. Poi, sì, lo ho messo con una giacca e nessuno avrebbe mai detto che si possa trattare di leggings piuttosto che di jeans. Guardate che meraviglia, vediamo appunto su Natalie il color verde, se vorrei c'è proprio l'effetto stampato. Che però non andrà via con il lavaggio. Taglia, se si è una S, se si è una M, io consiglio di andare per cui si adatta. Però se si è in dubbio è meglio sempre andare per la taglia più alta. Per il cenone, anche perché mi lascia mangiare quello che voglio. Io sai che sono dalla tua sotto questo aspetto perché anche io mi ricordo bene. Sara, sì, ha tre bambini. Sara, tre bambini. Sì, dobbiamo tranquillamente muovere come vuoi. Puoi anche farci palestra. E puoi andarci a correre, oggi sono andata a correre con la neve. Sti leggings, vediamoli indossati con invece degli altri stili, no? Vediamo Sara che appunto ha la sua figura, lei è una mamma di tre bambini. Poi abbiamo Natalie invece. Nonna rock and roll, guardatela proprio. Con viola. Allora, 110.810 il codice per questo Today Special Value, il costo di soli 29 euro e 16 centesimi. Non troppo non ha avversato.